In Piazza della Libertà la situazione di questi giorni racconta una nuova emergenza. Una settantina le persone che vi hanno dormito questa notte e di giorno la piazza ripropone immagini che molti avevano già archiviato. Inutile dire che tutto ciò nei cittadini rinforza quel senso di disagio se non di paura, acuito a sua volta da fatti di cronaca particolarmente impressionanti come l'accoltellamento in piazza Perugino della scorsa settimana, il cui responsabile è uno straniero regolare ma senza fissa dimora in città, è stato arrestato martedì scorso. Lo specifico di Piazza della Libertà in un contesto più ampio e generale induce il questore Pietro Stugni ad una riflessione che sottolinea la necessità di individuare una prima soluzione al problema. Serve anche un percorso che tenga impegnate queste persone perché stare senza far niente non è assolutamente una cosa che si può accettare perché è chiaro che poi si viene attratte da forme di aggregazione che portano anche a fatti antipatici. La polizia, sottolinea Ostuni, mette in campo costantemente tutte le forze a disposizione e la soluzione in tempi rapidi dell'aggressione in piazza Perugino è un risultato non da poco. Noi ci siamo e dimostriamo ogni volta di saper arrivare alla individuazione degli autori. Poi ci stiamo facendo tantissime misure di prevenzione, d'acura, avvisi orali e altre misure che servono a infrenare in qualche modo questi fenomeni. Resta però fra la gente la necessità di sentirsi più protetta. In questo caso il questore sottolinea ulteriormente quanto in città viene messo in campo. Facciamo ormai alto impatto ogni due volte a settimana. Facciamo i servizi antimovide, stiamo dappertutto, stiamo facendo servizi straordinari. Ripeto, non c'è solo la polizia di Stato in tutto questo. C'è l'arma dei carabinieri, c'è la guardia di finanza, c'è la polizia locale. Stiamo assicurando servizi dappertutto.